Che partita di merda, che partita di merda, non per la partita in sé perché è stata molto emozionante ma proprio scriptata, bella tutti ragazzi eccoci qui finalmente tornati, attenzione però attacca il Barcellona, Barcellona che attacca pallone indietro, gestisce la palla male però il pallone fallo, 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 fallo. Ragazzi l'arbitro, allora io sono contro come chi fa gli anti-Juventini ed è intanto rosso, rosso per Casemiro, ammonito qualche secondo fa per una presunta lite, anzi per una lite contro Dembélé, rosso e adesso se ne va sotto la doccia, l'ite che è accaduta un minuto fa, se ne va sotto la doccia Casemiro, rimangono in dieci al novantesimo, quelli al Real Madrid. Allora ragazzi io sono contro chi dice che la Juve ruba, magari sarà anche vero, io sono anche di parte perché essendo Juventino però. Allora, qua era scriptata, non hanno detto tantissime cose, non hanno detto tantissime cose. Falli del Real non fischiati, veramente ragazzi, sembra fatta apposta che il Real Piqué è da poco attaccato il Real Madrid. Partiamo dal presupposto che la difesa del Barcellona è una delle peggiori in Europa, tra le big intanto Messi, Courtois Papera, oh mio Dio. Partiamo dal presupposto che fa cagare la difesa del Barcellona, perché sul primo gol, quello di Benzema, bellissimo, di tacco, va bene, tutto quello che vuoi, ma fa cagare la difesa del Real che si è fatta prendere in contropiede del Barcellona, scusate, del Real, vabbè, del Barcellona che si è fatta prendere in contropiede del Real Madrid. In una maniera che, di scandalosa, è veramente poco. Adesso attacca qua il Barcellona, però nel complesso ha giocato male. Messi ha fatto un po' ciò che fa sempre, ovvero quando la situazione si mette male, Messi si nasconde. Attacca il Barcellona e il tiro di rimbere fuori, di pochissimo, di pochissimo. Niente, niente ragazzi, secondo me questo calcio sta andando male. Qua c'è sicuramente soldi del Real Madrid, secondo me, che è stato anche molto sfortunato, perché grazie a un replay mi sono ricordato che ragazzi, il Real Madrid è senza Dani Carvacal, stava giocando sulla destra come terzino, un po' alla Bernadeschi, adeguato Lucas Basquets, che si è infortunato, è entrato Odrio Zola. Molto bene, talento che sembra ormai essere verso la destinazione del bruciato. Niente, attacca il Real, attenzione, Real attacco il tiro. Parato da Ter Stegen, il tiro del capitano oggi, Marcello, è entrato ed è giunto capitano, ormai uno dei traghettatori di questa squadra. Mi sa che insieme a Ramos, sì di poco Ramos è quello che c'è da più tempo al Real Madrid, solo che Ramos si vede un po' di più come bandiera, Marcello c'è anche esso dal 2007, cavolo, oh, intanto qua sul fondo il colpo di testa di Bright White, cavolo, cavolo ragazzi. Rinvio dal fondo ragazzi di Courtois, ma ormai non sembra esserci più niente di niente. Gol di Minghessa, intanto vi ricco i gol, gol di Benzema, bellissimo su distrazione difensiva del Barcellona, colpo di tacco, andatevi a rivedere. Anche il secondo molto bello, il colpo, il calcio di punizione di Kroos, splendido, anche qua un po' di sfortuna perché Araujo ha ribattuto e poi Jordi Alba allontanando l'ha messa nella propria porta. In ogni caso ragazzi non c'è più niente da fare, Barça perde, noi ci vediamo a un prossimo video, anzi no, no c'è l'ultima azione, il cross in mezzo, il pallone, c'è anche Ter Stegen, il traversa, Traversa il tiro di Ter Stegen, Ter Stegen cerca di coordinarsi! Oh mio Dio, finisce qua ragazzi, finisce qua, niente, bello.